Continuano le operazioni della Polizia Municipale di controllo sul territorio riguardo alle attività dei commercianti. Siamo con il comandante Benigni Amorinco che ha seguito un'operazione proprio di questa mattina. Sì, questa mattina abbiamo eseguito un ulteriore controllo su commercianti in forma itinerante, riscontrando delle irregolarità e quindi abbiamo proceduto al sanzionamento e al sequestro della roba che corrisponderò su un quintale e mezzo di roba che verrà devoluta all'istituto benefico dei Pepposirina. Abbiamo completato gli atti, quindi la merce arriverà in questi minuti. Il controllo verrà intensificato ancora di più come avevo già accennato nelle scorse settimane sia sui mercati giornalieri e sia sul mercato settimanale proprio per debellare completamente il fenomeno che ho visto incrementato in modo esponenziale dal momento del mio ritorno in servizio. Quindi ci sarà la massima attenzione a parte di tutto il comando e anche delle forze dell'ordine perché era intervenuta anche una volante della Polizia di Stato in supporto che ringrazio sempre per la collaborazione. Il mercato di ieri? Le cose come sono andate? Il mercato di ieri è perfetto, non abbiamo riscontrato nessuna irregolarità nonostante abbia, c'era anche io, abbiamo controllato con più unità, non si sono verificate irregolarità i posteggini sono tutti assegnati in modo regolare quindi si è svolto in modo molto molto tranquillo.